Il Mar Nero Le manovre marittime nel Mar Nero vedono la partecipazione di 25 navi da guerra appartenenti alle flotte statunitense, bulgara, greca, romena, turca, spagnola e ucraina. La fase terrestre delle esercitazioni si svolgerà nelle regioni ucraine di Odessa e di Mikalaiv e coinvolgerà un migliaio di soldati americani. Le manovre NATO lungo l'intero perimetro occidentale della Federazione Russa si susseguono una dopo l'altra nonostante le proteste della popolazione europea contro l'ostilità di Bruxelles e di Washington nei confronti di Mosca. Daesh rivuole Palmira I terroristi dell'organizzazione islamica starebbero per raggiungere Tadmor, alle cui porte giacciono le rovine dell'antica città. Ed è proprio nei pressi di Palmira che i terroristi islamici, lo scorso venerdì, hanno abbattuto l'elicottero siriano Mi-25 pilotato da due istruttori russi, dopo che questi avevano sventato l'attacco di Daesh contro le truppe di Damasco. Nel frattempo, per sopperire alle recenti sconfitte in Siria e in Iraq, l'organizzazione terroristica starebbe inviando i propri kamikaze nell'Unione Europea attraverso l'Azerbaijan, la Georgia e Cipro, per mettere in atto nuovi attentati. A comunicarlo è il quotidiano turco Milliyet, citando una fonte all'interno dei servizi segreti di Ankara. Il senato di Varsavia ha approvato una mozione che definisce genocidio il massacro di Volin, perpetrato dai nazionalisti ucraini nel 1943 contro i polacchi della Volinia. 73 anni fa, i collaborazionisti dell'esercito insurrezionale ucraino attaccarono i villaggi polacchi della Volinia, nell'Ucraina occidentale, ammazzando 100.000 persone, principalmente donne, anziani e bambini. Le violenze contro gli abitanti delle regioni occidentali dell'Ucraina di etnia polacca, russa ed ebrea continuarono fino all'arrivo dell'esercito sovietico. La decisione dei senatori polacchi ha provocato un'ondata di risentimento a Kiev, dove i membri dell'esercito insurrezionale ucraino sono stati dichiarati combattenti per la libertà nel 2015. Theresa May sarà da domani il prossimo primo ministro del Regno Unito. La corsa alla nuova nomina doveva durare nove settimane, ma il ritiro di Andrea Lezum dalla campagna ha accelerato il tutto. Fra le prime dichiarazioni della May, un no secco delle elezioni anticipate. Molti colgono il contrasto con le dichiarazioni che la stessa Theresa May rilasciò nel 2007, quando fu Gordon Brown a prendere posto di Tony Blair. All'epoca la May spingeva per le elezioni anticipate, sostenendo che il primo ministro fosse spaventato dall'idea di nuove elezioni. Forse è la stessa paura ad animare Theresa May? Come osserva The Times, se Jeremy Corby rimarrà leader dei Labour, potrebbe crearsi della pressione e torno ai Conservatives per andare al voto. L'altro nodo cruciale è l'Unione Europea. Brexit è Brexit e noi ne faremo un successo, ha detto stamane May. Ma tutti si chiedono cosa questo voglia dire. May ha dichiarato che l'articolo 50 del Trattato di Lisbona non sarà attivato prima del prossimo anno e che istituirà uno speciale dipartimento solo per i negoziati su Brexit. Ma forti preoccupazioni ruotano attorno allo status degli europei residenti nel Regno di Sua Maestà e sui milioni di britannici residenti all'estero. Sui primi, May ha sempre mantenuto una forte ambiguità riguardo al loro diritto di permanenza. Inoltre, durante la campagna referendaria, la May è stata un'accesa sostenitrice del ritiro del Regno Unito dalla Convenzione Europea sui diritti umani, anche se col suo nuovo mandato pare abbia messo da parte tale obiettivo. Ora avrà solo 48 ore per scegliere i membri del suo governo. Ci sono rumori di impossibile riciclo del cancelliere George Osborne come ministro degli esteri e della contendente Andrea Lezom in qualche ruolo chiave. Grazie a tutti.